Fabio Denunzio è un volto noto della televisione ed è un testimonial importante. Oggi non è qui in città metropolitana per il suo lavoro a striscia alla notizia, ma perché è presidente di un'associazione che combatte il bullismo. Possiamo dire che l'hai provato sulla tua pelle e oggi è una tua campagna importantissima. Beh sì, io diciamo quando ero bambino, parlo anche scuola elementare, scuola media, ho subito anch'io bullismo perché i miei chili in più li ho sempre portati, quindi anche oggi li tengo tranquillamente, gelosamente, li conservo. Vado in tutta Italia per cercare di rompere quei muri che i bulli creano e anche per quanto riguarda il cyberbullismo. Voglio precisare anche che noi come associazione Bullismo No Grazie aiutiamo sia i ragazzi bullizzati che i bulli perché entrambi vanno aiutati. Possiamo dire una parola per i genitori dei ragazzi, sia dei bulli che dei bullizzati? Sì, la parola è quella, quello di stare attenti, stare attenti ai propri figli, non sottovalutare eventualmente alcuni cambiamenti che possono essere quelli di chiusura, soprattutto per i ragazzi che vengono bullizzati, o quelli eventualmente dell'aggressività che aumenta per i ragazzi che normalmente diventano bulli. Cioè i genitori devono stare attenti a 360 gradi, seguire i propri figli anche per quanto riguarda i loro telefonini, perché si aprono molte volte i social in età dove non dovrebbero averlo, tipo a volte 9, 8 anni, 10 anni, 11, insomma non dovrebbero avere un social. Invece aprono questi social e non stanno attenti a tutto quello che succede su questi social, alle persone che li scrivono, a chi loro rispondono, dove vanno, cosa guardano attraverso internet. Ecco bisogna seguirlo e ci sono anche delle app dove facilmente si possono scaricare sul proprio telefonino e sul telefonino del proprio figlio per poter seguire tutto quanto.